200 tassisti alla guida del proprio mezzo questa mattina hanno protestato a Milano. Le autobianche hanno sfilato nei pressi dell'aeroporto di Linate, da dove si è poi distaccato un corteo di veicoli in direzione del centro. La manifestazione, non annunciata, è stata organizzata contro l'abusivismo, contro Uber e le regole del settore. Il corteo ha percorso tutto Viale Forlanini, Viale Corsica e Corso 22 marzo, provocando disagio al traffico, ma si è svolto in modo pacifico e si è poi diviso. Uno ha proseguito percorso di Porta Vittoria e uno in Viale Bianca Maria, bloccando Piazza San Babila. I tassisti hanno deciso di dirigersi verso Piazza della Repubblica per raggiungere Palazzo Pirelli, dove una sessantina di questi si sono uniti agli allevatori con i trattori, che da mercoledì stanno manifestando contro il crollo dei prezzi di latte, cereali e carne dovuto alla concorrenza con i prodotti del nord Europa. I tassisti che hanno protestato oggi sono quelli che si occupano del turno di notte e annunciano già che per Expo potrebbero verificarsi analoghi episodi. Ad estare molto risentimento tra gli operatori del settore è l'applicazione americana Uber, che fornisce un servizio di trasporto automobilistico privato mettendo in collegamento diretto passeggeri e autisti. In vista dell'Expo questo potrebbe rivelarsi un grave danno per la categoria.